Ultimi giorni di riposo per l'Avelino di Piero Braia, dopo il successo rimediato nel derby contro la Casertana, società e staff tecnico hanno concesso qualche giorno libero ai calciatori. La ripresa è in programma per la giornata di giovedì, da lì si comincerà a preparare il doppio confronto della prossima settimana, Catanzaro mercoledì pomeriggio e Paganese, domenica prossima in casa. Al Ceravolo mancheranno in due, il tecnico Braia e Aloy, entrambi appiedati dal giudice sportivo. In panchina ci sarà Desimone che guiderà nuovamente i lupi nella difficile trasferta interna calabra. A centrocampo le alternative non mancano e De Francesco, dopo un periodo di appannamento, è tornato ad essere incisivo. E finalmente è il centrocampista di qualità visto lo scorso anno alla regina. Nuovi risvolti per quanto riguarda l'infortunio di Enrico, il giovane dopo l'infortunio con il Catanzaro all'andata oltre al covid ed altro si è fermato nuovamente. Era stato in campo per pochi minuti con il Teramo e poi non ha rivisto più il campo. Quindi la decisione, insieme alla società e al suo procuratore, di curare il problema al flessore Avilia Stewart a Roma, dove potrà quindi essere a casa sua e tornare tra una ventina di giorni in Irpinia.